Si votava in 26 comuni della provincia di Arezzo, vediamo com'è andata nei principali. Partiamo dal comune di Bibiena, dove la scelta, piuttosto schiacciante, è ricaduta sul successore del sindaco uscente Bernardini, eletto nuovo sindaco Filippo Vagnoli con il 45,07%, sconfitto Gianni Galastri 27,40%, Roberto Rossi 20,50% e Gianni Brogi 7,02%. A Buccine vince Nicola Benini con il 65,71%, sullo sfidante Andrea Tata 34,29%. A Castelfranco Pian Disco è stato eletto sindaco Enzo Cacioli 51,16%, vittoria su Gianmarco Brunetti 34,12% e su Matteo Martelli, espressione del Movimento 5 Stelle, 14,73%. A Castiglion Fibocchi la vittoria di Marco Ermini, il futuro insieme 57,70%, non male comunque è andato Fausto Rampi che si è fermato al 42,30%. Clamorosa l'onda di consensi acquisita da Mario Agnelli che dunque viene confermato a Castiglion Ferentino addirittura con il 71,67% per gli altri. Poco più di una partecipazione Rossano Gallorini 14,46%, Luca Casagni 9,46%, Giuseppe Mazzoli 4,41%. A Fogliano della Chiana viene confermato Francesco Sonnati 56,50%, centrosinistra Gianluca Mencucci 27,47%, Serena Ricci del Movimento 5 Stelle 16,03%. A Poppi riconferma anche per Carlo Toni 72,65%, vittoria su David Marri 27,35%. A Prato Vecchio Stia ancora Niccolò Caleri con 59,53%, sconfitto Federico Caleri 31,64% e Carlotta Balsani 8,83%. A Subbiano erano addirittura 5 i candidati, la spuntata forse con sorpresa Ilaria Mattesini espressione di una lista civica piuttosto trasversale 34,01%, Ilario Maggini 23,55%, Beatrice Benelli 22,89%, Marinella Sereni 11,37%, infine Carlo Iannattone 8,18%. A Terra Nuova Bracciolini la vittoria per Sergio Chienni 79,40%, su Mario Ghezzi che ha ottenuto il 15,69% e Andrea Rosi che si ferma al 4,92%. Nei comuni più grandi invece è tutto in bilico, si andrà al ballottaggio. Per Cortona è la prima volta nella storia il candidato a sindaco del centro-sinistra, Andrea Bernardini non ce l'ha fatta superare la soglia del 50% e dunque andrà allo scontro al ballottaggio con il candidato del centro-destra, Luciano Meoni. Come detto è la prima volta che accade nella storia delle elezioni amministrative di Cortona. Ballottaggio a San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, candidata del centro-sinistra, anche qui non supera la soglia del 50%. Al ballottaggio dunque se la vedrà con il candidato Francesco Carbini.